Ancora due note che nella foga e nell'entusiasmo passionale del mio racconto precedente non vi ho illustrato. La prima è banale. Quello dei dossier è anche un business. Tant'è che nel famoso scandalo del 2005, quello di Pollari e Mancini, erano coinvolte altre due persone. Il capo della sala ascolto della Telecom, Giuliano Tavaroli, ex carabiniere, ex collega di Marco Mancini e il titolare di un'agenzia di investigazioni private di Firenze che si chiamava Dintendo qualcosa. Lui si chiamava Cipriani. E avevano messo su un business. Tant'è che si cercarono anche i soldi in un conto inglese di questi signori e si parlava di tanti soldi. Quindi quello dei dossier è anche un business. Io ti fabbrico un dossier e te lo vendo. E che ne so io chi è che lo compra? Magari lo compra un ministro, magari lo compra un servizio segreto straniero e magari ostile, magari lo compra un'azienda per stroncare un manager per fare concorrenza a un altro, un partito politico. Comunque è un business. E in questa vicenda perse la vita anche una persona che cadde misteriosamente da un ponte, un cavalcavia a Roma. Non so se ve lo ricordate che aveva avuto anche lui un ruolo all'interno della sala ascolto della Fiat, scusate, della Telecom. E poi c'è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi. I mezzi che avevano e che hanno potenzialmente a disposizione per dossierare, intercettare e infastidire invasivamente una persona sono tanti. C'era una struttura chiamata Centrale Centauro, Centrale Centauro, in grado di imitare la voce delle persone. Quindi io ricevevo una telefonata, pensavo da un mio collega che mi insultava e il giorno dopo gli spaccavo la faccia. Invece non era stato il mio collega a telefonarmi. La telefonata era partita dalla Centrale Centauro, un po' quello che si raccontava che fece Alighiero Noschese telefonando a Totò Riina imitando la voce di Andreotti, si narrava che questo costò la vita a Salvo Lima. Fantasie. Però c'era la Centrale Centauro che faceva queste cose. Io ho visto uno di questi consulenti del Sismi fare delle operazioni di questo genere artigianalmente, imitando la voce di una persona, entrando ad ascoltare i messaggi nella segreteria telefonica di un cittadino ignaro e mi faceva sentire dal suo cellulare la segreteria telefonica di casa di una persona. Io una volta trovai la mia segreteria telefonica modificata, stiamo parlando 2003-2004, questo deficiente per farmi uno scherzo mi aveva modificato la segreteria telefonica del telefonino e mettendo una frase buongiorno sono un grande James Bond in giro e io però non ascoltavo mai la segreteria telefonica finché un mio amico mi telefonò e mi chiede se mi ero bevuto il cervello che avevo lasciato sto messaggio. Da remoto mi avevano cambiato il messaggio della mia segreteria telefonica e non ci vuole molto a fare questo, quindi quando adesso vediamo sti dossier ridicoli, non dimentichiamoci i potenziali mezzi che hanno, la centrale Centauro che era una cosa del 2004-2005-2006, chissà da che cosa è stata superata adesso ci sono i Trojan, quanti dossier hanno fatto su Palamara con i Trojan, per cui insomma ritorniamo quei piedi per terra e concludiamo di nuovo dicendo che si tratta di una pessima pagina di giornalismo, ma dal punto di vista del dossieraggio dell'intelligence fa veramente ridere.